ma lì ma lassù nessuno si io adesso vivo e io e Antonio Antonio dove riprende? lo riprende o va a fermare le macchine lo riprende o va a fermare le macchine non è che posso fare il miracolo no mettiti di qua sono tutti assieme te l'ho detto che sono tutti assieme vinta l'occhio quando escono dimmelo che le accendo vai 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 dai fino di là tutti in qua tutti in qua tutti in qua tutti in qua di qua vinceva da solo c'è un troppone a tre minuti avvertimi quando arrivano avvertimi